Consiglio regionale dedicato alle mozioni e senza leggi, intanto Francesco la notte lascia maggioranze popolari per accasarsi nel misto ed è scontro tra centro-sinistra e opposizione sui fondi per l'edilizia ospedaliera. Aveva 23 anni Gabriel Aureliano, l'operaio di origini rumene, travolto questa mattina da un'auto in transito sulla provinciale 231 all'altezza di Terlizzi, mentre segnalava la presenza di un cantiere per strada. Studenti delle scuole della provincia di Foggia, vincitrici del concorso Il territorio di Capitanata, la bellezza come strumento di legalità, in viaggio premio a Roma. Oggi la visita ai palazzi di governo Chigi, Quirinale e Viminale. Le notizie da Bari, Bat e Foggia ben ritrovati, andiamo subito in Consiglio regionale in via Gentile perché oggi è una giornata dedicata alle mozioni e senza leggi. Vedo già collegato con noi il nostro Antonio Bucci con Stefano Lacatena di Con. Antonio. Eccoci, eccoci, confermo, consiglio che riparte. Come tutti i primi consigli del mese, dall'emozione e dall'interrogazione dei consiglieri, ci stiamo arrivando con un'uscita dalla maggioranza che è quella di Francesco Lanotte, eletto nelle fila dei popolari e che proprio sull'esito dei ballottaggi ha formalizzato l'uscita dal centro-sinistra. Stefano Lacatena invece è saldamente nella lista con e in qualche misura con lui chiudiamo il cerchio di questi ballottaggi perché se c'è un componente dei popolari che lascia la maggioranza, i civici hanno chiesto al centro-sinistra di ritrovarsi, di riaprire un tavolo e di capire intanto le ragioni dello stare insieme ma anche la roadmap che ci porta ai prossimi appuntamenti. Io credo che le elezioni abbiano dimostrato una cosa certa. Dal 2003 a oggi c'è stata un'evoluzione del civismo. Il civismo nel 2003, immaginato dal Presidente Emiliano, era un civismo a supporto dei partiti tradizionali. Oggi il civismo, se si organizza, può essere elemento trainante di qualsiasi coalizione. Quindi la vera riflessione dobbiamo farla prima noi e capire se sinergicamente riusciamo a costituire questo movimento a livello regionale dove evidentemente quando i cittadini sono chiamati a mettere nome e cognome, quando sono chiamati a scegliere direttamente gli interlocutori, non scelgono generalmente i partiti tradizionali. Io ho fatto un'analisi del voto. Vi posso dire che le preferenze che hanno conseguito i partiti tradizionali sono veramente poche in giro per la Puglia. Il ragionamento oggi qual è? Ci vuole la capacità di diventare protagonisti. Oggi bisogna passare da una fase in cui i civici erano a supporto a una fase in cui i civici si assumono la responsabilità di essere protagonisti nelle scelte. A cominciare da Bari, passando per le competizioni future. È evidente che in questo ragionamento i primi interlocutori per noi saranno adesso chi governa con noi la Regione, il Partito Democratico e i 5 Stelle. E oggi dobbiamo iniziare un ragionamento con loro che parte dalla convinzione che il protagonismo deve vedere al centro del dibattito non le posizioni singole ma l'interesse della Regione Puglia e delle comunità che amministriamo. I primi tradotto vuol dire non significa gli unici portatori d'acqua, no, pari dignità, sì. Credo che vale come riassunto? Perfetto, il titolo è perfetto. Le aggiungo un'altra e poi vi restituiamo la linea perché con la delega all'urbanistica lei ha in corso il tavolo che ci porta di fatti alla revisione di quello che era lo strumento che abbiamo sempre conosciuto come piano casa. Poi è più complesso però il tavolo c'è. Il tavolo c'è, sta lavorando. Oggi siamo in attesa di ulteriori osservazioni del Lanci che ha da poco rinnovato il proprio direttivo. L'idea è quella che ho detto sin dall'inizio, da quando il Presidente mi ha conferito questa delega, è di ridare dignità a una materia che dal 2015 è stata un po' abbandonata a se stessa. Sia col piano casa, sia con la scarsa attenzione politica, però è evidente che si è perso il faro della pianificazione. Oggi interveniamo in maniera, diciamo, repentina a manutenire la legge sull'eco casa e a riscriverla agganciandola al DPR 380. Ma credo che l'ambizione più importante sia quella di consegnare alla Puglia una nuova legge sull'urbanistica. Se immaginiamo che nel tempo in cui noi abbiamo fatto una legge urbanistica del 2001, l'Emiliano Urbani ne ha fatte quattro, credo che sia arrivato il momento per tutti quanti di lavorare in maniera convinta. Bene, grazie consigliere. Noi vi risiediamo alla linea con il riassunto di quello che si muove all'interno dell'emiciclo e chiaramente rinviandovi alle prossime edizioni. La notizia era nell'area da tempo, ma adesso è ufficiale. Un consigliere in meno nel centro-sinistra regionale di Michele Emiliano, l'uomo in meno, se così si può dire, Francesco Lanotte, eletto in via gentile tra i popolari ed entrato in rotta di collisione alle ultime amministrative. Nell'abbatti, infatti, i suoi erano al fianco di Francesco Spina. Finito al ballottaggio, sì, ma che ha dovuto vedersela con l'ingresso del governatore in partita. Al secondo turno, gran cerimoniere dell'intesa a Biceglie tra i dem di Vittorio Fata e Angelo Antonio Angarano. È rimasto alla guida della città e proclamato proprio nelle scorse ore. Sarebbe proprio l'intervento del capo dell'Aggiunta nei giorni precedenti alla scadenza del termine per gli apparentamenti precisa l'interessato ad aver delegittimato le decisioni politiche di la notte. Tanto più, lamenta, senza alcun confronto preventivo, tanto meno con i rappresentanti territoriali delle civiche. E allora avvenire meno è il senso di solidarietà politica e non se ne fa più nulla. La notte ha già comunicato, infatti, la propria decisione alla presidenza del Consiglio ed è pronto a sedere tra i banchi del gruppo misto. Per il resto, si valuterà caso per caso se accordare o meno il disco verde e i provvedimenti. Se di caso isolato si tratti, però saranno invece le prossime settimane a dirlo. Già convocato, infatti, il vertice del centro-sinistra, chiesto dai civici dopo i ballottaggi. In cantiere ci sono già gli appuntamenti del 2024. Restiamo in tema, ma ci spostiamo nella BAT, perché il progetto civico di Francesco Spina approderà in Consiglio Comunale a Biceglie e verrà costituito, infatti, un gruppo consigliare che ricalcherà il contributo di oltre 5.000 voti portato da 170 candidati. Antonio Gargano. Angela Antonio Angarano, riconfermato sindaco di Biceglie, ma anche all'opposizione il lavoro non si ferma. Lunedì sera Francesco Spina ha riunito la sconfitta coalizione di centrodestra nell'appuntamento di Piazza Vittoria Emanuele, ringraziando gli elettori e i sostenitori di una campagna elettorale che si è protratta fino al ballottaggio. Mi è stato chiesto di dar voce al nostro progetto civico in Consiglio Comunale, ha dichiarato l'ex sindaco di Biceglie, nonché ex presidente della provincia BAT. L'obiettivo di Spina è quello di garantire il giusto riconoscimento ai 170 candidati provenienti dal civismo, che hanno garantito oltre 5.000 voti, la metà del totale, alla coalizione Biceglie Rinasce. Da qui nascerà il gruppo consigliare che porterà lo stesso nome della coalizione Biceglie Rinasce e Biceglie Sportiva. Sarà la squadra con cui all'opposizione Spina porterà avanti il suo progetto civico per fornire un'alternativa al PD in maggioranza. Le minoranze in Consiglio Comunale saranno rappresentate in tutto da sei consiglieri. Oltre a Spina, i due eletti nella lista popolari Luigi Cosmai e Paolo Ruggeri, i due eletti in casella nel modo giusto Giorgia Preziosa e Gianni Casella e Mimmo Spina di Fratelli d'Italia. Ancora comunali, la corsa verso Bari 2024 è già partita. Il centrodestra lancia i forum tematici, il centrodestra accelera entro l'estate. Prima della Fiera del Levante ci sarà il nome, assicurano. A sinistra attendono la convocazione della Convenzione della Coalizione e che il PD apra i forum tematici. Il centrodestra barese invece stringe il cerchio sul profilo del candidato da schierare alle comunali di Bari 2024. Meglio se un politico basta avventure con il civismo. Si è lasciato sfuggire a Francesco Paolo Sisto da numero uno metropolitano degli Azzurri. Il tavolo dovrebbe partire nei prossimi giorni. L'obiettivo è arrivare ad un nome entro l'estate e comunque prima della Fiera del Levante azzar del leghista Fabio Romito che sottoscrive in toto le parole del viceministro alla giustizia. Entrambi sono all'interno di una terna di papabili in un recente sondaggio insieme al senatore di Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre. Candidato entro la fiera come diceva Romito? Ma questo credo che sarà difficile perché Bari il capoglio di Regione e lo scacchier nazionale e si devono incastrare una serie... Esatto, questo non lo so. L'importante è che sia una persona che già conosce la macchina amministrativa, una persona che ha già esperienza politica perché non possiamo catapultare a pochi mesi dalle elezioni, perché ormai mancano pochi mesi di elezioni, una persona che completamente è avulsa da questa realtà. La politica sconta delle sue liturgie che vanno osservate e seguite. È evidente però che ciascuno di noi se fa questo mestiere, se fa politica, è perché è dentro una passione che non può spegnere. La mia città io la porto tatuata sulla pelle. Per me Bari, io quando vado fuori qualcuno mi dice anche che sembro un pazzo. Quando parlo di Bari parlo come della mia innamorata, di mia mamma, di mia sorella, del mio tutto. Quindi se hai una passione, un amore così forte per la tua città, quale che sia il ruolo che poi i cittadini ti affideranno, non puoi tirarti indietro. Di studenti delle scuole della provincia di Foggia, vincitori del concorso Il territorio di Capitanata, la bellezza come strumento di legalità in viaggio a Roma. Questa mattina la visita ai palazzi del governo, a Palazzo Chigi, al Quirinale e al Viminale. Vedo collegata con noi proprio dall'esterno del Quirinale la nostra Antonella Davola. Sì, eccoci, ci troviamo dinanzi alla sede del Quirinale, qui a Roma in compagnia del prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, in compagnia degli studenti vincitori del concorso, fortemente voluto dalla prefettura, il territorio di Capitanata, la bellezza come specchio di legalità. Un premio meraviglioso. Sì, i ragazzi stanno vivendo oggi un'esperienza collettiva straordinaria. L'effetto di questa bella iniziativa che abbiamo così avviato e svilupperemo sempre sul territorio di Foggia, questo concorso che abbiamo promosso insieme all'ufficio scolastico provinciale. I ragazzi che hanno vinto questo concorso sono stati premiati e sono qui oggi a visitare i palazzi istituzionali. Ora ci tocca guardare il meraviglioso Palazzo del Quirinale. È una bella sensazione anche da parte nostra perché viviamo anche questo entusiasmo dei ragazzi, questo interesse degli stessi docenti che mi hanno ringraziato, ma sono io che ringrazio loro perché riescono con il loro impegno educativo e formativo straordinario a gestire in maniera ottimale queste iniziative e portando questo entusiasmo ai ragazzi che stanno manifestando grande interesse. Ci toccherà poi visitare anche il Viminale, so che sono stati già stamattina a Palazzo Chigi, quindi è una giornata intensa, si stancheranno ma sarà un modo per vivere pienamente il palazzo, quindi è quello che ci eravamo ripromessi di avvicinare tangibilmente i giovani alle istituzioni e dobbiamo continuare, perseverare molto, già abbiamo in programma ambiziosi iniziative. L'anno prossimo faremo lo stesso concorso e guarderemo l'Europa, quindi preannunciamo anche questa iniziativa. L'ultimo commento sul fatto che si inserisce all'interno di un importante tour che la Prefettura ha fortemente venuto, quello dedicato proprio ai temi della legalità, quest'anno anche la Festa della Repubblica è stata l'insegna di questi concetti. Sì, proseguiremo sicuramente col tour della legalità, continueranno le iniziative, toccheremo le altre città e anche le altre zone meno frequentate e conosciute, perché dobbiamo insinuarci positivamente in ogni lembo del territorio, in ogni angolo del territorio, quindi vogliamo essere sempre presenti con la collaborazione e l'azione corale di tutte le altre componenti che ci stanno seguendo, anzi si stanno proponendo e quindi anche per quest'estate, soprattutto con le diocese stiamo valutando importanti iniziative attivando dei campi scuola estivi. Grazie, allora non ci resta che vedere l'emozione dei ragazzi, grazie, arrivederci. E grazie, grazie alla nostra Antonella Davola. Andiamo avanti con la cronaca, ancora un incidente sul lavoro. Aveva 23 anni, Gabriel Aurelian Petrescu, l'operaio di origini rumene, travolto questa mattina da un'auto in transito sulla provinciale 231 all'altezza di Terlizzi, mentre segnalava la presenza di un cantiere per strada. Aveva la bandierina e provvedeva a sbandierare anche in maniera molto forte e molto evidente. Era nella squadra che avrebbe dovuto lavorare a bordo strada per tagliare le erba e era il primo operaio che, armato di bandierina, avrebbe dovuto segnalare la presenza di un cantiere sul ciglio dell'arteria, ma un'auto lo ha colpito in pieno, facendogli perdere la vita. Un 23enne operaio di origini rumene, Gabriel Aurelian, il suo nome da più di 20 anni accorato con suo padre, è stato travolto da una utilitaria in transito sulla strada provinciale 231 all'altezza di Terlizzi, nel Barese, in direzione del capoluogo. Era stato assunto solo da pochi mesi nell'azienda incaricata della manutenzione stradale. Secondo le prime informazioni, un automobilista non si sarebbe accorta della presenza del campiere a bordo strada e, forse in fase di sorpasso, avrebbe travolto il ragazzo. Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso e i soccorritori del 118, ma per il giovane non c'era più nulla da fare, sarebbe morto sul colpo. L'auto era guidata da una 45enne che sarà denunciata per omicidio stradale. La donna originaria di Andrea ha subito riferito agli inquirenti di non essersi accorta della presenza del giovane sulla careggiata. Si è fermata per prestare soccorso alla vittima. La salma del 23enne è stata trasportata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sull'accaduto indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Trani. Lo sbandieratore si vedeva a 10 chilometri di distanza, tutto vestito di arancione, la bandiera arancione, il metto, tutto apposto. Quindi è un rettilenio. Anche il padre faceva parte di questo gruppo. Fortunatamente il padre si è trovato oggi a stare un po' distante, non ha visto l'incidente. Invece è stato incastrato dalle immagini di videosorveglianza dei quartieri residenziali. Un 37enne è arrestato a Barletta per due rapine in altrettante attività commerciali. Inchiodato dalle immagini di videosorveglianza dopo aver messo a segno due rapine, il commissariato di polizia di Barletta ha arrestato un 37enne del luogo che tra agosto e settembre dello scorso anno si era reso responsabile di due colpi in altrettante attività commerciali della città. I nuovi metodi di investigazione e la copertura capillare del territorio attraverso le telecamere installate nei quartieri residenziali hanno permesso di risalire all'identità dell'uomo che ha agito incappucciato in entrambe le circostanze. Gli agenti hanno così mappato il percorso fatto dal responsabile delle rapine riuscendo poi ad individuare i frangenti che l'hanno incriminato. Il materiale probatorio acquisito nei confronti dell'indagato con precedenti e condanne per reati della stessa indole ha permesso di chiedere ed ottenere dal Tribunale di Trani il provvedimento restrittivo. L'uomo è attualmente presso il carcere di Trani e a disposizione dell'autorità giudiziaria. Lo hanno colpito alle gambe con un colpo d'arma da fuoco mentre era in stradella Boezio nel quartiere Carbonara 2 di Bari gambizzato un cinquantenne imprenditore della BAT in città per lavoro si esclude al momento la filiazione ai clan. Sarebbe stato avvicinato da una bicicletta elettrica con a bordo due uomini che avrebbero sparato almeno tre colpi di arma da fuoco uno dei quali è andato a segno colpendo la gamba destra vittima della GUAT un imprenditore cinquantenne residente nella BAT l'episodio nelle scorse ore in stradella Boezio al quartiere Carbonara 2 di Bari ad allertare le forze dell'ordine residenti del quartiere Santa Rita situato proprio a ridosso del borgo rurale di Carbonara che hanno sentito sparare alcuni colpi d'arma da fuoco partiti da una pistola di cui non si conosce ancora il calibro. L'uomo portato d'urgenza all'ospedale di Venere non sarebbe in pericolo di vita secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'imprenditore in città per motivi di lavoro non apparterrebbe alla criminalità organizzata locale è possibile che l'agguato sia più di natura personale qualcuno dunque ha esploso un colpo di arma nella sua direzione a distanza ravvicinata con l'intento di ferirlo. In zona intanto un tratto di strada senza uscita nelle vicinanze di un cavalcavia sono intervenuti gli agenti della sezione volante e i poliziotti della scientifica l'autore della sparatoria sarebbe giunto accompagnato da un complice a bordo di una bici elettrica in stradella Boezio i due avevano probabilmente i volti coperti per cui è difficile che qualcuno li abbia potuti riconoscere e potrebbero risultare preziose le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso della zona. I 209 anni di storia celebrati ieri in piazza del Ferrarese a Bari per l'arma dei carabinieri i fenomeni predatori e criminalità organizzata quasi mille arresti in un anno per il comando provinciale di Bari il bilancio lo abbiamo fatto con il colonnello Francesco De Marchis sentiamo Nell'ultimo anno sono stati quasi mille gli arresti eseguiti dal comando provinciale proprio sul fronte del contrasto agli stupefacenti e per citare invece un dato a carattere regionale posso dire che nell'ultimo anno i sequestri di stupefacenti ammontano a circa 7 tonnellate sul fronte dei crimini predatori sappiamo che la provincia di Bari è una provincia caratterizzata dalla particolare incidenza di alcune fenomenologie di tipo predatorio tra queste i furti di autovetture i furti in appartamento e devo dire che anche in questo ambito i risultati dell'azione di contrasto sono assolutamente confortanti in aumento rispetto all'anno precedente peraltro in una situazione nella quale registriamo anche nell'ultimo periodo un calo anche di alcune importanti fenomenologie di tipo predatorio per esempio i furti di autovetture i furti in appartamento naturalmente questi riscontri statistici sappiamo che offrono solo in parte la misura della percezione di sicurezza dei cittadini sono un dato importante sappiamo che c'è poi anche però una componente di tipo emotivo, psicologico ed è per questo che i carabinieri lavorano molto anche nelle comunità a contatto con i cittadini proprio per accrescere questa sensazione di sicurezza ma sono risultati che ci danno sicuramente uno stimolo e una motivazione in più per moltiplicare l'impegno al servizio del cittadino I stessi festeggiamenti ieri nella BAT andiamo a vedere la cerimonia commemorativa che ci descrive Maria Fiorella nella splendida cornice di piazza Duomo a Trania la presenza di autorità civili e militari la tradizionale cerimonia commemorativa per la ricorrenza dell'annuario della fondazione dell'arma dei carabinieri che quest'anno festeggia 109 anni di storia più precisamente la giornata nazionale dei carabinieri fissata nel 5 giugno per ricordare la data in cui l'arma ottenne la prima medaglia d'oro al valor militare la cerimonia scagliera si è svolta alla presenza di autorità civili religiose e militari accolte da uno schieramento rappresentativo di tutte le realtà territoriali e le specialità dell'arma nell'occasione sono state consegnate alcune ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti nel corso del servizio la presenza dei carabinieri è fondamentale in questo territorio come devo dire in ogni territorio d'Italia sono innanzitutto la polizia giudiziaria di prossimità in prima battuta poiché non c'è comune che non sia presidiato dalla presenza di una stazione rappresentano comunque anche eccellenze dal punto di vista investigativo la provincia di Barletta Andrea Trani resta una zona caratterizzata dalla forza delle controversie malavitose allo stesso tempo è nella complessità delle dinamiche delinquenziali e di quelle della malavita che si inserisce il lavoro dell'arma noi riceviamo ogni giorno centinaia di richieste di intervento per fatti reato richieste di soccorso richieste di assistenza di qualunque genere ogni giorno riusciamo a esprimere una media di almeno 40 servizi esterni che servono appunto a fare fronte a rispondere a queste esigenze di sicurezza a queste esigenze di prossimità che ha la nostra popolazione quello appena trascorso è stato un anno intenso di attività eseguite e di risultati raggiunti Cambiamo argomento l'imprenditore Pasquale Casillo verso la presidenza della Banca Popolare di Bari al momento nessuna ufficialità ma il tam tam si rincorre sono scaduti i termini per la presentazione delle liste per i componenti del CDA dell'istituto di credito del capologo pugliese nessuna ufficialità ma il tam tam si rincorre fino ad approdare sulle pagine dei giornali e Pasquale Casillo va verso la presidenza della Banca Popolare di Bari mentre Cristiano Carrus dovrebbe restare sulla tolda di comando nel ruolo di amministratore delegato scaduti i termini di presentazione delle liste per i componenti del consiglio di amministrazione dell'istituto di credito del capoluogo l'assemblea è in programma il prossimo 12 giugno e se la fumata bianca si concretizzasse in favore dell'imprenditore del gruppo omonimo e manager del settore dell'alimentare e delle farine l'incarico non sarebbe incompatibile con quello di numero uno dell'ente Fiera del Levante nel 2022 la banca ha chiuso il bilancio con una perdita di 45 milioni di euro altri due pugliesi in squadra sarebbero anche Grazia Di Cuonzo e Francesco Paolo Ranieri asso azionisti associazione che riunisce circa 70.000 piccoli azionisti dell'istituto intanto ha formalmente avanzato la candidatura nel nuovo CDA di Giovanni Colangelo già componente dallo stesso organismo della Banca Popolare di Puglia e Basilicata e di Giuseppe Carrieri presidente di asso azionisti BPB per il collegio sindacale invece sono stati proposti Riccardo Rocca e Michelangelo Liuni Comuli di rifiuti tra gli olivi a Barletta e i cittadini che hanno segnalato scrivono chiedono che qualcuno intervenga prima che siano dati alle fiamme vediamo Alberi d'ulivo e immondizia non è un'opera d'arte contemporanea per denunciare discariche a cielo aperto che inquinano il territorio e l'ambiente è una reale fotografia di quanto accade ancora oggi nonostante le innumerevoli campagne di sensibilizzazione Qualcuno intervenga prima che siano dati alle fiamme sono preoccupati i cittadini che segnalano la presenza di cumuli di rifiuti nei pressi del santuario della Madonna dello Sterpeto a Barletta e precisamente nelle campagne che costeggiano il sottopasso di via San Giuseppe Marello a pochi metri dal luogo di fede e devozione lo scempio sacchi colmi di rifiuti di ogni genere e persino mobili e arredi il timore è che a breve possano essere cancellati dalle fiamme come d'estate purtroppo capita troppo spesso su tutto il territorio la richiesta dunque all'amministrazione comunale affinché possa provvedere a rimuovere i rifiuti nascosti e soprattutto ad installare fototrappole per riuscire ad identificare i responsabili di un atto che potrebbe ancora una volta trasformarsi in un danno per l'ambiente e per la salute di tutti e proprio ai cittadini le associazioni ambientaliste nella giornata mondiale dell'ambiente rivolgono un nuovo appello quello di non deturpare bensì di prendersi cura della nostra casa comune una libreria di materiali ecosostenibili che apre ad un interessante dialogo fra università e mondo imprenditoriale si chiama la Materioteca ci dice tutto Domenico Brandonisi creare un luogo d'incontro per una collaborazione con il mondo imprenditoriale quello della ricerca con l'obiettivo di ripensare i prodotti delle aziende in un'ottica di economia circolare questo è l'obiettivo della prima libreria italiana sui materiali ecosostenibili il suo nome è Materioteca e nasce a Bari presentata alla facoltà di fisica dell'università del capoluogo pugliese essa inoltre rappresenta un caso unico di collaborazione tra pubblico e privato nel settore dell'ecodesign italiano sostenibilità che deve essere declinata in diversi modi ovviamente sostenibilità ambientale sostenibilità sociale sostenibilità economica oggi parliamo di materiali ecosostenibili che vanno dal materiale del packaging farmaceutico al packaging industriale materiali ecosostenibili che verranno utilizzati qui in questa università nell'università degli studi di Bari verranno studiati catalogati e messi a disposizione delle aziende le piccole e medie imprese e anche le grandi multinazionali che hanno volontà di confrontarsi col mondo universitario da un lato le imprese potranno beneficiare dei nuovi materiali che sono il risultato del costante lavoro dei ricercatori dall'altro il mondo dell'università potrà comprendere le reali necessità di sviluppo del mondo dell'impresa in modo da orientare i propri sforzi verso quelli che possono essere davvero i nuovi prodotti green che sostituiranno quelli inquinanti deve essere appunto un luogo in cui è possibile osservare toccare sperimentare materiali nuovi soprattutto con uno sguardo rivolto alla sostenibilità che è un po' il grande tema del nostro millennio l'idea è quella appunto di passare dal virtuale al reale è tutto per questa edizione dopo la pubblicità le notizie da Taranto Brindisi e Lecce Rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo